Non credo che la Juventus cerchi un attaccante centrale, Chiesa invece è una situazione completamente diversa e Chiesa può essere l'obiettivo della Juventus. C'è una situazione contrattuale di Chiesa che mette in allarme quella che è la Fiorentina, c'è una volontà del Presidente di trattenere Chiesa, si vedrà quello che succede, il rischio c'è di una rottura, c'è il rischio di una operazione congiunta, credo che Chiesa non sia una situazione facile da gestire e credo che prima o poi sarà costretto a lasciarla a Fiorentina.